E' attesa per il prossimo 21 maggio la sentenza del Tribunale di Sulmona sulla vicenda che vede protagonista ALC, l'operaio licenziato in tronco dalla Magneti Marelli di Sulmona, dopo essere finito agli arresti domiciliari. La decisione del giudice era prevista per la giornata di ieri, ma l'indisponibilità dell'azienda ha fatto slittare l'atto finale del processo al 21 maggio. Il quarantenne di Sulmona, difeso dagli avvocati Alessandro Margiotta e Katia Puglielli, si è presentato già due volte le avanti al giudice, assieme ai rappresentanti della Marelli, ma il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine. Posizioni troppo distanti fra l'ex operaio e l'azienda, una partita, se così si può definire, che si gioca sui tavoli della giustizia. I fatti risalgono a febbraio del 2017, quando il giovane di Sulmona venne licenziato in tronco dalla Marelli, dopo essere stato posto ai domiciliari dell'autorità giudiziaria. ALC, secondo la Marelli, avrebbe fraudolentemente tenuto nascosta la circostanza degli arresti domiciliari, ma il diretto interessato, tramite i suoi legali, ha smontato l'avversione portare avanti dall'azienda, sostenendo di aver avvertito il suo superiore gerarchico lo stesso giorno dell'arresto. Da che parte sta la verità? Il verdetto arriverà il 21 maggio.